ciao ragazzi oggi giochiamo al koala ma non al koala oggi infatti trasformeremo la nostra casa in una pista da bowling per l'occasione abbiamo bevuto un sacco di acqua e ci abbiamo messo dentro anche un po di sabbia cinetica così la bottiglia è più stabile proprio come un birillo vai nick tira forte quasi strike per ricordarci le posizioni abbiamo messo anche dei segneti con lo scotch creando il mitico triangolo dei birilli di modo che un birillo cadendo possa far cadere l'altro birillo l'altro birillo l'altro birillo ogni bottiglia abbattuta vale un punto ma se ne abbattiamo due dello stesso colore c'è un punto bonus il bonus eccolo qua abbiamo rivestito le bottiglie d'acqua ce l'abbiamo disetichettate e abbiamo messo un foglio colorato in questo caso giallo abbiamo creato tre colori per tre diverse combinazioni chi fa strike fa dieci punti chi fa spera ce li butta giù tutti ma in due lanci ne becca otto gira la ruota vai mati gira vediamo chi inizia abbiamo utilizzato la mystery wheel dell'hub gv vai mi sei proprio tu prepariamo la linea di partenza con lo scotch di carta e qua prepariamo il tabellone per segnare i punti mati nikki ale e davide io e con barbe di ritoppia faccio il lancio di prova vai no fermo perché non è questa la pista come non è questa è no il velo di costruirla in casa che puoi personalizzarla e allora non facciamo una sola pista ma tre piste sogno inventate da noi allora cominciamo subito ed ecco a voi la nostra pista sogna il salotto si lancia da qua la palla che deve passare in mezzo alle alle non ce l'ho fatta alle sedie proprio qua e andare a colpire le bottiglie ce l'hai fatta ma questa va mati che sarà la prima a tirare il pubblico in delirio e dove ci fai lì in mezzo l'ostacolo l'ostacolo nicolò in mezzo alla pista ciao concorrente sei pronta prende la mira lancio grande e ora è diritto al secondo lancio secondo lancio grande due bottiglie cadute due punti se fossero state dello stesso colore ci sarebbe un punto accessorio il bonus e sono due tappamati e la ruota sceglierà vediamo chissà chi uscirà ale la barriera è pronta sei pronta ale vado eh vai 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 una vado eh vai ale nooo hai sbagliato volevo volarla mi segno un punto mi tappo e chi esce io nikki io nikki io nikki nikki e ci si allena l'ostacolo si allena nikki quando vuoi lancia buona grande che ha lo stesso colore bravi si fa difficile bisogna angolare allora provaci nikki guardate che precisione quasi nikki a 3 e adesso tocca a me davide sei pronto ci sono vai primo tiro primo lancio vai nini si un atterrato bene secondo lancio guarda il gesto atletico mi preparo vai nooo vai avanti vai avanti un punto anche per te siamo pari ale si ultimi però adesso ci aspetta la pista bagno sogno andiamo il pubblico è ancora in delirio uuuu perchè la nuova pista prevede anche una rampa pronte a saltare ragazzi uuuu e da questa parte ecco il nostro triangolo di birri di bottiglie in bagno ecco la prima concorrente è tornata mati voci per tutti pronti attenti lancio grande una una due anche la gialla veramente ah ok giusto secondo tiro vai mati super potenza mati grande quasi sistemate le bottiglie la palla va a darle signore e signore ecco voi la seconda star ecco la star sei pronta ale vai pronta via seconda palla uuuu secondo lancio vai come adatta no niente sono quattro bottiglie però una doppia di colore ok 25 punti ecco voi il terzo giocatore che è Nicolò eccolo il lancio è partito un grande in corsa wow due secondo lancio velocissima salta buona tre ecco il quarto giocatore eccomi ragazzi vai certo quando filma il colpo da campione ah colpite no ma non sono cadute secondo lancio si scorre scorre non ci credo niente zero guarda la zero no è veramente zero questi sono risultati parziali adesso andiamo all'ultima sfida la pizza sogno in cucina gustosa la pizza cucina così è sì ci sono anche attenzione degli ostacoli indiretti che disturbano il succo la bevanda l'acqua proprio lì in mezzo e il tonno immancabile ecco vai la prima giocatica vieni mua 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 cosa fai mati sto facendo pitch con Selena vai allenati mati primo tiro di mati e dai sì è caduta proprio all'ultimo palla recuperata soltudo la sedia secondo lancio niente un punto per mati giocatore numero due pronta via grande una secondo lancio vai no non pareva il succo no hai buttato giù il succo sistemato il succo ragazzi vi mostro la difficoltà del percorso che consiste essenzialmente in questo passaggio sotto le sedie mentre in fondo abbiamo Nicolo terzo giocatore pronto lancio primo lancio bene uno secondo lancio vai Nicky super potente 3 punti più uno 4 perché ce ne sono due rosse a terra grande si balla facciamo due conti prima dell'ultimo lancio di Davide oh vediamo cosa devo fare Matilde è a 5 Nicolo 3 3 6 4 10 davidino se vuoi vincere devi fare uno strike giusto perché vale 10 punti mentre lo spercio a buttare giù tutti i birilli in due colpi vale 8 punti cara Barbie abbiamo una sola possibilità andiamo primo tiro parte 6 2 3 secondo lancio partita nooo allora facciamo il conto dei punti ma che ha messo quell'ostacolo lì in mezzo 1 2 3 4 ma con il doppio colore 5 punti e con gli ultimi 5 punti arriva 6 e ora andiamo alla prima azione del vincitore sali sul podio vincitore per te la grandiosa coppa del vincitore è bellissima ti piace? sì applausi grande uuuu 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 per non perdere i prossimi video ciao 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 ciao